Danneggiate e vandalizzate le corone di alloro che un'impresa di onoranze funebri aveva fatto sistemare a proprie spese nei cimiteri di Roseto, frazioni comprese la ditta e l'agenzia Lupinetti di Teramo che da circa un anno ha aperto un proprio ufficio anche a Cologna Spiaggia. Nei giorni della ricorrenza di ogni santi e dei defunti le ghirlande sono state vandalizzate. Alcune sono state trovate capovolte ma a tutte erano stati strappati i nastri che portavano semplicemente il nome di chi le aveva offerte. Queste corone erano state danneggiate, manomesse e i nastri con le scritte erano stati tolti, strappati. Sicuramente è un atto vandalico, da chi è stato commissionato non lo sappiamo abbiamo qualche segnalazione ma siamo comunque ancora lontani dalla soluzione. Il titolare dell'impresa ha immediatamente chiamato in comune per capire cosa fosse successo sottolineando inoltre l'inqualificabile gesto che non voleva in alcun modo essere un tentativo di promozione della propria attività di onoranze funebri. Praticamente non potevo posizionare quelle corone perché avrei dovuto dare la possibilità a tutti quanti di farle. Io ci tengo a precisare che il mio gesto non era un affronto a nessuno ma voleva essere soltanto un gesto di vicinanza per le famiglie che hanno avuto come me purtroppo una perdita in famiglia. Speravo fosse da promotore per altri gesti del genere, altre iniziative del genere. Questo gesto è stato commissionato non so chi però credo che sia stato un gesto molto vile non nei miei confronti perché io mi metto all'ultimo posto chiaramente non era la mia festa ma era la festa della memoria dei defunti ma è stato fatto questo gesto vandalico nei confronti della memoria dei defunti.